E Caterina Antropova, tre punti cruciali per la vostra rincorsa in classifica e mettere un po' di pressione anche a Novara che stasera sarà impegnata nel big match di giornata contro Conegliano. Un tuo commento sulla partita? Certo, era una partita importante per noi come saranno tutte le altre del resto del campionato e abbiamo fatto molto bene secondo me soprattutto a mettere le pressioni con la nostra battuta e di non lasciarle, di fare il gioco veloce e poi siamo stati bravi anche a difendere, a murare. Siamo felici e adesso ci prepariamo, alla prossima. Complimenti. Grazie.